Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti o ben ritornati. Se è la prima volta che entrate su questo canale, sotto in descrizione nell'info box troverete un po' di informazioni su di me e anche alcuni link, così se per caso avete piacere potete venirmi a seguire anche su tutti gli altri miei social. Ma veniamo subito al succo. Ieri sera finalmente sono riuscita a installare il nuovo software, il nuovo aggiornamento del mio iPhone 11 Pro Max, l'aggiornamento numero 14. Sono veramente troppo contenta, non vedevo l'ora di provare questo nuovo aggiornamento ma soprattutto non vedevo l'ora di provare la nuova funzione dello screen. In cosa consiste? Semplicemente potete fare lo screenshot andando a toccare il vostro iPhone dietro dal retro facendo due o tre touch, ma adesso basta chiacchierare e vi faccio vedere. Scarichiamo l'ultimo aggiornamento, in questo caso il 14. Poi andiamo su impostazioni, accessibilità, tocco, andiamo in fondo tocco posteriore, tocco doppio e andiamo su istantanea schermo. Adesso vediamo se funziona. Pronti? Proviamo a fare lo screen? Faccio il tocco doppio e sì, funziona!